Per la messa in sicurezza delle autostrade e dei parchi a 24 e a 25 il governo vuole utilizzare i fondi del Masterplan Abruzzo del 2018-2019 destinati ad opere strategiche e alla mitigazione del dissesto idrogeologico nella nostra regione. Insorge il presidente vicario Giovanni Lolli che parla di una vera e propria follia preannunciando in caso di un mancato passi indietro del governo nell'incontro che si terrà dopo domani una mobilitazione senza precedenti di tutti gli abruzzesi a Roma. Qua si prendono per un'opera nazionale che è tanto nazionale questa autostrada che il canone concessore di 56 milioni se lo prende lo Stato mica ce lo prendiamo noi quindi per far fronte alla manutenzione di un'opera straordinaria si chiede di mettere la cassa alla regione Abruzzo sottraendola a che cosa? A quelle risorse che già ci sono state assegnate e che l'Abruzzo una volta tanto più virtuosamente degli altri ha impegnato per il 70%. Oggi ho avuto modo di dimostrare che le opere non ancora convenzionate valgono 53 milioni di euro quindi ammesso che ci vogliano prendere quelle, ammesso che sia giusto gli altri 150 milioni perché sono 250 milioni tutto l'80% tocca a noi dove li prendiamo? Li leviamo dal dissesto idrogeologico? Li leviamo dalle strade provinciali? Quindi abbiamo l'autostrada più cara d'Italia che già ci paghiamo e sapete voi quanto ci costa e addirittura adesso ci dobbiamo fare a carico nostro anche la maturazione straordinaria ma poi questi soldi vi verranno restituiti a partire dal 21 fino al 2025 intanto quello che è certo leggendo le carte che c'è l'anticipazione di cassa e ci levano tutti i soldi adesso dove sta questa competenza è una cosa abbastanza inquietante noi siamo la regione che sta più avanti abbiamo caricato 530 milioni di euro di progetti già caricati sulla banca dati del ministero come li andiamo a cancellare quei progetti? ma ve li immaginate? Tra l'altro si va incontro a contenziosi è veramente una cosa delirante questa che hanno fatto gli aspetti politici di questa vicenda se la vedono quelli che fanno politica io guardo gli aspetti istituzionali e mi auguro che tutti i parlamentari abruzzesi adesso che va in conversione facciano emendamenti e lo facciano passare e se l'emendamento non passa staranno insieme a noi io spero proprio che non succeda che non debba succedere perché abbiamo tante cose da fare e non certo la voglia di metterci a protestare ma se poco poco dovesse succedere che non cambiano io sono pronto a farmi carico di convocare tutti gli abruzzesi a una manifestazione ad una protesta vibrata perché non è possibile accettare ne va della nostra dignità